La seconda edizione di Halloween a Cascina l'anno scorso ha avuto uno straordinario successo di pubblico di presenze tanti bambini, tante maschere e quest'anno abbiamo deciso di replicare organizzato dall'associazione della Proloco di Cascina ci saranno delle ulteriori iniziative e novità oltre al Palazzo della Paura, all'Expretura, che era già un successo dell'anno passato ci sarà anche la Stradina della Paura e il Trenino della Paura che girerà per le vie di Cascina naturalmente la partecipazione di molte associazioni del territorio, il truccabimbi dall'associazione Mani Attive e anche dagli esperti truccatori del cinema che truccheranno i bambini al Palazzo dell'Expretura e baby dance al bar i portici, danze caraibiche la sera, street food per tutti quindi ci sarà anche da mangiare da bere e dolcetti per tutti i bambini, nel classico solco della tradizione dolcetto scherzetto la partita sistema preparata di tutti i Bambini Grazie.